6 testimonianze avvincenti ed inesorabili, ambientati in Siberia, 6 destini divergenti, che si intrecciano nella terza guerra mondiale nel 2050, 6 storie implacabili, come la gelida battaglia per Kalinka, 6 testimonianze avvincenti ed inesorabili, ambientati in Siberia, 6 destini divergenti, che si intrecciano nella terza guerra mondiale nel 2050, 6 storie implacabili, come la gelida battaglia per Kalinka.